Ben trovati amici, l'appuntamento con l'informazione di Telebrea sul canale 89. Allora, voi sapete, almeno spero che sappiate tutti, che festeggiamo il 15 di maggio l'anniversario della regione siciliana. Siamo arrivati al 78esimo anniversario dell'autonomia siciliana, quindi non dimentichiamo che il Parlamento siciliano è quello praticamente più antico perché è inserito addirittura nella Costituzione, quindi abbiamo questa data particolarmente importante che è il 15 di maggio, l'anniversario della regione siciliana. Ci sono alcune iniziative, invece c'è una per gli amici di Agrigento al teatro Pirandello, ci sarà la presentazione di un film dell'amico Peppe Palmeri che si chiama Io rimango qui, ma poi faremo un servizio su questo. Però voglio dire, è importante che abbiamo una regione che ha una sua storia così grossa, così seria, così roboante, noi partiamo da centinaia e centinaia di anni, quindi questo ci deve rendere fieri. Però devo dire che la politica ultimamente non ci sta dando molto ragione, per esempio c'è un attacco concentrico nei confronti del Presidente Schifani. quando voi parlate con chiunque e ti dici, ma il Presidente non lo vediamo mai con qualunque deputato, ma viene due volte all'anno, che ci possiamo fare, che non ci possiamo fare, e quindi non c'è un grande rispetto per il Presidente. Però il Presidente è sempre uno raccomandato, ci mancava altro. Perché vi racconto questa storia? Perché proprio ieri ha avuto un incidente, fortunatamente nulla di grave, ci mancherebbe altro, è stato tamponato dalla stessa auto della scorta, quindi un tamponamento fra di loro, perché c'era stato il passato, la macchina era quella della scorta, insomma, tamponamento. Il Presidente ha preso il colpo della frusta, qua, tutte queste cose. Cosa hanno fatto? L'hanno portato in ospedale. In ospedale è arrivato con un codice verde, cioè una maccatina, però il Presidente della Regione. Allora pensate che, giustamente, in mezz'ora gli hanno fatto un'analisi di tutto quello che poteva avere, nonostante fosse il codice verde, e gli hanno detto, Presidente, puoi continuare il tuo impegno istituzionale, perché non c'hai niente. L'incidente non ha lasciato traccia. È giusto, è il Presidente della Regione. Che fa? Lo lasciamo assettato. Ma tutti quelli che erano assettati là, ad Agrigento, e magari se fosse accaduto a Ragusa, erano all'ospedale di Ragusa, ma non gliel'hanno dette quattro male parole, dicendo, hai visto, Presidente, come siamo combinati qua? Siamo 80-90 che dobbiamo essere visitati dal codice rosso, giallo, verde, tutto questo. E si arriva a lui, fresco una rosa, e viene subito visitato, dice, cos'è, dovremmo fare le segnalazioni alla magistratura? È chiaro, il Presidente è il Presidente, però il Presidente in queste occasioni dovrebbe anche guardare quello che accade intorno a lui e prendere provvedimenti. Cosa accade intorno a noi? Ci sono state queste giornate di vento e il vento, lo sapete, tutti alimenta gli incendi, che poi qualcuno ci mette il fiammifero, qualcuno ci mette l'innesco, insomma alimenta gli incendi. E quindi gli incendi, come sempre accade, in questo periodo, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, fino a ottobre sono all'ordine del giorno e quindi bisogna intervenire con maggiore attenzione. La notizia è, questo per esempio è l'ultimo incendio che abbiamo avuto nella zona di Randello, la notizia è che però fortunatamente, fortunatamente stiamo provvedendo e quello che ci fa piacere è che sono stati consegnati oggi, pensate, ma lo hanno detto un po' tutti, ma io lo voglio fare rivedere, sono stati consegnati decine e decine di pick up, quei mezzi che servono per andare nelle zone dove c'è soprattutto boschive, ecco le quali, vedete, questi sono mezzi antincendio che riescono a, grazie al sistema delle quattro ruote motrici, hanno la possibilità di arrivare in posti come difficili e con le pompe riescono a fare qualcosa. E me ne sono tanti di questi mezzi, quindi è una bellissima cosa, un investimento che ci voleva e io credo che questo, rivedete quanti sono, verranno distribuiti in tutta la Sicilia. Sentiamo due parole del Presidente Schifani che non ha avuto risentimenti da parte, o meglio dopo l'incidente. Sentiamo.